rudmo nero il player benvenuto amico nel nostro spazio quotidiano quasi dedicato a persone storie emozioni e sì anche giochi di ruolo eccolo qua siamo nella seconda puntata in questo spazio in cui giacomo in ferie meritatissime ferie vero giacomo e di cosa parliamo oggi intanto innanzitutto una cosa che mi dimentico sempre nel caso capitasse su questo podcast per caso come è successo a me con una serie tv e di quelle che potremmo parleremo oggi siamo questo è un podcast io sono il vostro marco mister mac andretto e questo è un podcast di gdr unplugged il il canale la piattaforma il collettivo dei giochi di ruolo dall'altra parte l'altro modo di giocare di ruolo comunque di cosa parliamo oggi ieri sera sono tornato a casa bello convinto guardarmi la seconda puntata di game of thron ottava stagione uscita domenica sera papma papma mi siedo sul divano apro netflix che praticamente era già aperto tipo caminetto a casa nostra netflix e incrocio crashing ne avevo solito parlare avevo già visto fleabag su amazon prime video e ho detto vabbè, guardiamo Il Pilota, Il Pilota è la prima puntata della stagione di una serie tv, la prima puntata della prima stagione, per chi non lo sapesse, e allora mi metto a guardarlo, ed è stata una bomba, nel senso che mi è piaciuta tantissimo, puntata da 20 minuti circa, personaggi molto particolari, stazioni molto particolari, serie inglese, tra l'altro ci sono due serie, una del 2016 e una del 2017, io ho visto quella del 2016 ed è quella che vi consiglio assolutamente, serie che parla di questi personaggi che vivono tra virgolette abusivamente come guardiani di un ospedale dismesso, e vivono in questo ospedale, organizzano feste, in questi 20-30 anni, 40 anni, in cui hanno le loro vite un po' a soquadro, vivono ancora un po' accoppiati e un po' no, e si parla di tanti argomenti, niente di importante per carità, però come sempre con la leggerezza di queste serie tv si parla anche di qualcosa di serie, di qualcosa di emozionante, ed è stato bello salire su questo otto volante di emozioni, queste storie, una stagione di 6 episodi, 20 minuti per cui velocissimo, ma praticamente alla fine addirittura stavo pensando che potrebbe essere un film, però poi ho pensato che la struttura delle puntate per come è fatta, non permette di vederle tutte in fila come un film, cioè si vede proprio che sono delle puntate che vanno una di seguito all'altra, e quindi è proprio una serie tv, nonostante la durata non sia così eccessiva. Allora, mentre la guardavo mi è venuto in mente, e vi la consiglio, mi è venuto in mente un collegamento con i giochi di ruolo, perché? Perché in questa serie le vite dei personaggi che sono triangolati alla mo' di cuore di mostro, anche senza parlare di adolescenti, anche se sono questi adolescenti un po' più cresciuti, tra virgolette per carattere, in queste vite ci sono numerosi punti di svolta, numerosi tra virgolette conflitti tra di loro, conflitti interessanti e che portano avanti la storia, triangolazioni, equilibri che si smuovono, cambiano, e mi sono chiesto come potrebbe essere applicata questa cosa in un gioco di ruolo. Allora ho immaginato la costruzione della situazione in un ambiente interessante, un po' alla cuore di mostro, un po' alla creazione di Powered by Apocalypse, anche il mondo dell'apocalisse se vogliamo immaginarlo, anche se meno estrema come cosa, però sicuramente con punti di dramma altrettanto interessanti. Mi sono chiesto due cose, lì non ci sono conflitti vero e proprio, ci sono punti in cui non si sa come andrà avanti la storia, ma in realtà la storia va sempre avanti con un risvolto particolare, con un risvolto inaspettato, con un risvolto quasi assurdo, che la rende senza scadere mai nel ridicolo, perché molto spesso si ride, ci sono situazioni assurde, però non ci sono mai situazioni che mandano in vacca la fiction, resta sempre interessante, resta sempre avvincente, anche se è borderline con il ridicolo, anche se è borderline con il mandare in vacca, come si suol dire, termine tecnico. E allora mi sono chiesto, ma nei giochi di ruolo noi abbiamo bisogno del conflitto? So che Giacomo aveva già trattato questo argomento, ma l'aveva trattato più dal lato gioco di ruolo classico, cioè esplorazione e conflitto di combattimento. A me è capitato di giocare dei giochi in cui si chiacchiera molto, in cui il punto nodale della cosa sono le vite dei personaggi, e non è che si combatte, però la storia ha dei punti nodali, come dicevamo nel famoso romanzo cyberpunk della storia, in cui poi la storia converge e poi prosegue. Penso a Cuori di Mostro, ma penso anche, per un certo verso, a Urban Shadow, penso anche a Saga of Islanders, in cui ci sono i combattimenti, ma molto spesso i punti nodali sono punti in cui la storia diventa conflittuale, tra virgolette, ma non con qualcuno per forza, ma anche con se stessi e con i risvolti della storia, cioè a un punto in cui la storia ha un bivio, o ha diversi bivio, ramificazioni, e non si sa come andrà avanti e si tira un dado per vedere. Allora mi sono chiesto, ma serve per forza, è necessaria l'incertezza del dado per scoprire come andrà avanti la storia? Qui ci sono due risvolti. Il primo è che il dado rende interessante, giocattoloso il proseguire nella storia, perché? Perché non è nelle tue mani, perché c'è l'imprevisto, l'azzardo e il caso sono sempre divertenti e interessanti. Risvegliano in noi quella nostra passione per l'imprevisto, per il caso, per il rischio. Però se invece ci fosse un sistema in cui semplicemente qualcuno propone una conseguenza, una conseguenza inaspettata, una conseguenza assurda, una conseguenza non risvolta, ci sarebbe bisogno di tirare il dado o saremmo abbastanza consapevoli, saremmo abbastanza adulti o comunque bravi da far proseguire la storia, proporre una conseguenza interessante che ci mette un po' nei casini e noi sapremmo accettarla e proseguire oppure lo riterremmo sempre un qualcosa di negativo che gli altri giocatori propongono al nostro personaggio. Dobbiamo sempre vedere gli altri giocatori come avversari nel gioco di ruolo e proteggere il nostro personaggio e cercare sempre di andarlo e pensare sempre che il nostro personaggio abbia bisogno di essere perfetto, preciso e vincente. Credo che i nostri personaggi abbiano bisogno di fallire, hanno bisogno di essere messi in crisi e io di solito quando gioco mi affido agli altri personaggi perché questo succede, ma mi rendo conto che è un accordo al tavolo che non è facile. Molte volte si pensa che ci stiano mettendo i bastoni tra le ruote. È una fascia, è una gamma in cui non sempre la pensiamo alla stessa maniera. Molte volte quello che ci mettono in gioco gli altri lo riteniamo a svantaggio di noi, del nostro gioco, del nostro personaggio. E allora mi chiedo, siamo noi che lo vediamo male? Siamo noi che dovremmo accettare di più gli altri? Dove sta il giusto? Dove sta il vostro giusto? E vorrei sentire anche le vostre esperienze. Avete bisogno che ci sia qualcosa di imparziale tipo dado, meccanica di gioco che vi mette il bastone tra le ruote o vi fidate dei vostri compagni di gioco? A proposito, saluto quelli che mi hanno dato il benvenuto e il bentornato ieri. Mi fa sempre piacere avere i vostri commenti su YouTube, per cui commentate anche oggi, fatemi sapere, o altrimenti passate a salutare, che per voi qua c'è sempre un posto. Rock and role play!